Ciao bambini, ciao mamma e papà, mettetevi comodi, oggi leggiamo il libro di Dani Anseo. Che rabbia! Roberto ha passato una bruttissima giornata. E tu, levati quelle scalpacce, le dice il papà. Ecco fatto, risponde Roberto. Per cena ci sono gli spinaci, piuttosto non mangio, esclama Roberto. Sali in camera tua, dice il papà, e scendi soltanto quando ti sarai calmato. Non ci faccio neanche, risponde Roberto. E lassù nella sua camera, Roberto sente una cosa terribile che sale, 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 fino a quando... RAAA! Esce fuori all'improvviso. Ciao, dice la cosa. Che facciamo? Tutto quello che vuoi, risponde Roberto. Bene, dice la cosa. Cominciamo da lì. E hop, la coperta vola via con tutti i cuscini e crack il comodino. Ben la lampada. Adesso tocca lo scaffale con tutti i libri. Wow! Poi la cosa si avvicina al baule dei giocattoli. Aspetta, no, quello no, grida Roberto. Hai capito, smettila. Oh no, il mio dame è un preferito. Cosa ti ha fatto quel brutto pestione? Non ti preoccupare, ti aggiustero io. E tu, vattene via, cattivo. Oh, la mia lampada. Aspetta, ti rimetto a posto. E il mio cuscino tutto stropecciato. E il mio libro preferito, ti ha tutto sciupato, poverino. Ecco, così va meglio. Ma se qui tu vieni che ti prendo, forza su, dentro la scatola e non muoverti più. Papà, è rimasto un po' di dolce? Bene, ciao!